Il ruolo sociale delle assicurazioni ha assunto negli ultimi anni una sempre maggiore centralità, in risposta anche al cambiamento del quadro macroeconomico internazionale caratterizzato dalla crisi energetica, dall'impennata dei prezzi, dalla pandemia e da eventi catastrofali, purtroppo sempre più frequenti. Per valorizzare il contributo delle imprese di assicurazione nella gestione dei danni da catastrofe naturali e nella mitigazione dei relativi rischi, il nostro Governo ha ridisegnato il quadro di sostegno e tutela delle imprese e dei cittadini. Al 31 marzo 2022 solo l'11,3% delle polizze attive prevedeva una estensione per le catastrofi naturali. Per favorirne la diffusione con l'ultima legge di bilancio, abbiamo introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali. L'eventuale mancata stipula della copertura assicurativa è causa di esclusione da qualunque altra forma di agevolazione pubblica. Per garantire l'assolvibilità complessiva del sistema abbiamo poi previsto che SACE possa garantire in ultima stanza l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie di assicurazione. Questa è una vera svolta significativa, importante, necessaria per tutelare le nostre imprese e il nostro Paese a fronte di rischi catastrofali sempre più evidenti. Inoltre, nel disegno di legge ricostruzione è stata introdotta una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno che obbliga le assicurazioni a liquidare immediatamente il 30% del danno complessivo. Era assolutamente necessario prevedere questa disposizione per dare certezze a chi si assicura e per dare efficaci immediata a quei rimborsi necessari per poter da subito riprendere ove necessario l'attività produttiva. In questo contesto il contributo del settore assicurativo assume sempre maggiore rilevanza anche per il welfare, a cominciare dal comparto sanitario per il quale il MIMIT, il nostro Ministero, ha emanato uno dei decreti attuativi della legge Gelli-Bianco. Abbiamo infatti rafforzato la protezione assicurativa per la responsabilità civile sanitaria attraverso l'introduzione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie pubbliche e private e anche per i professionisti sanitari. Vogliamo garantire un giusto risarcimento alle vittime di malpratiche mediche e sostenere il comparto assicurativo anche nel settore sanitario. Il nostro impegno è pari anche sul fronte della lotta alle frodi troppo diffuse nella responsabilità civile automobilistica sulla quale abbiamo anche riunito al Ministero la Commissione di Allerta Rapida dei Prezzi pochi giorni fa, lo scorso giovedì, da me presieduta. È nostra intenzione sviluppare e attuare una normativa atta a migliorare la concorrenza tra le imprese assicuratrici al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità al settore e la tutela dei cittadini e delle imprese. Nel disegno di legge concorrenza, che presenteremo tra pochi giorni in Consiglio dei Ministri, prevederemo inoltre misure che potranno semplificare una serie di processi a beneficio degli assicurati, grazie a procedure più snelle per il trasferimento da una compagnia all'altra, a partire dalla trasferibilità dei dati contenuti dalle scatole nere in caso di cambio di compagnia assicuratrice. Sul fronte ramo vita, per affrontare le crisi causate dall'aumento dei tassi di interesse, è stato creato un fondo di garanzia assicurativa obbligatorio per le compagnie, così da tutelare i risparmiatori e famiglie. Questo strumento garantirà maggiori livelli di stabilità e protezione per gli operativi del settore e per i risparmiatori. Non vogliamo più trovarci di fronte a casi come Eurovita, che avrebbero potuto mettere a rischio il nostro sistema se non fossimo intervenuti in tempo utile, grazie al supporto del sistema assicurativo e bancario. Un settore assicurativo efficiente, capace di sostenere famiglie e imprese nella gestione dei rischi, contribuisce al benessere della società e alla competitività del sistema economico. Le azioni intraprese dal Governo con la collaborazione del mondo assicurativo sono indispensabili per affrontare le sfide future e per conseguire una crescita economica e sociale sostenibile. Buon lavoro!